Ciao amiche e ciao amici, come riconquistare un ex con la tecnica del nessun contatto? Qual è la tecnica del nessun contatto? Beh, è semplice. Quando veniamo lasciati, se veniamo lasciati, dobbiamo completamente distaccarci dall'altra persona, per diversi motivi. Distaccarci cosa vuol dire? Non vuol dire chiuderlo. Questo è importante, perché se chiudiamo il contatto su Facebook, su Messenger, su Whatsapp, eccetera, eccetera, significa che dimostriamo rancore nei confronti di quella persona. Quindi questo è molto sbagliato. Ma dobbiamo mantenere aperti tutti i contatti, nel senso di, diciamo, possibilità. Mantenere aperti tutti i canali, in modo tale da non dimostrare di avere rabbia, di avere rancore, di essere sicuri di noi stessi, ma nello stesso tempo non cercare nessun contatto, non inviare sms, non inviare... La comunicazione eventualmente dovrà essere molto indiretta. Ad esempio, attraverso Facebook, noi possiamo mantenere lo stesso tipo di struttura che avevamo prima, diciamo, nel senso, non iniziare a variare completamente. Quindi mantenere una struttura di tipo di post, di cose simili a quelle di prima, ma introducendo ogni tanto qualche variazione. E questa variazione deve andare necessariamente nella direzione della crescita e dello sviluppo personale, cioè del fatto che è una persona che sta in qualche modo cambiando e sta crescendo come persona. Perché questo non guasta mai. Perché se una persona ti lascia, un motivo ci sarà stato. E quindi attraverso questi messaggi indiretti noi dobbiamo far capire se la persona guarderà. Ma sarà incuriosita, lo farà. Per quale motivo lo farà? Lo farà perché se noi non mandiamo sms, se noi non cerchiamo contatto, generiamo automaticamente curiosità. Anche se, diciamo, fosse incazzato con noi, incazzata con noi, la curiosità gliela generiamo. Gliela generiamo perché gli viene a dire cosa starà facendo, cosa non starà facendo. Anche se non interessassimo più, questa cosa qua scatta automaticamente. Per cui noi dobbiamo mantenere lo stesso tipo di situazione, ogni tanto inserire qualche post o qualcosa che indica che stiamo crescendo come persone, che ci stiamo sviluppando, stiamo acquisendo sicurezza, stiamo acquisendo forze interiori, stiamo... dei riferimenti anche per altre persone. Questo è importante, vedere altre persone, avere delle spalle, diciamo, comunque altre persone che comunque ci considerano in qualche modo riferimenti. E poi inserire ogni tanto qualche foto con qualche possibile antagonista, cioè persona dell'altro senso, non foto in intimità perché questo verrebbe visto come ah, vedi, che vuol mettere qualcosa, ma foto dove c'è una situazione sociale di divertimento. Questo sporadicamente a spot. E diciamo che aspettando il tempo giusto è probabile che sia l'altra persona a contattare noi. E a quel punto lì, nel momento in cui l'altra persona ci contatta anche con un sms per dirci come stai e come non stai, dobbiamo entrare inizialmente come amici. Perché questo è un goal che... è il primo goal che va fatto nel tentativo di una riconquista. Entro come amico. Perché sento come amico se l'altra persona si fida, poi dopo posso dare stimoli emotivi e generare attrazione. Ma il goal della teoria, diciamo, della tecnica dell'evitare il contatto è quello di riuscire a far sì che l'altra persona mi cerchi e quindi intanto fa un primo passo e io gli do la disponibilità dell'amicizia, inizialmente molto limitata, vedendo poi se lui o lei vuole approfondire questa situazione. E allora sta venendo nel mio territorio. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!